Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo su Stranger Things, so che siete contenti, a grande richiesta, e ci tengo prima di tutto a ringraziarvi per il supporto che mi state dando, mandandomi foto, video su Instagram. So che ad alcuni non ho risposto forse subito, perché davvero siete in tantissimi, però ci tengo a farlo e a ringraziarvi uno per uno, ho letto ogni singolo messaggio. Ho quindi diversi immagini e video sulle novità di Stranger Things, dall'ultimo punto in cui eravamo rimasti, e se non siete aggiornati ho una playlist dove parlo delle novità, proprio del set, delle foto che vengono date ufficialmente, perché sono scene originali, le trovate comunque sul mio canale. Partiamo con una sequenza, nella prima immagine vediamo Maya Hawke con Caleb McLaughlin, che chiaramente sono in abiti per registrare, per filmare, probabilmente quindi, se vi ricordate, nel video scorso abbiamo visto delle immagini, dei video dove c'erano Steve, Dustin, Max e Robin, che sembrava che stessero correndo, stavano andando proprio di corsa da qualche parte, e forse hanno raggiunto Lucas in una foresta, perché magari ha scoperto qualcosa. E infatti nella foto seguente vediamo che ci sono proprio Lucas e Dustin assieme. Qui appunto abbiamo due foto del loro dialogo, e probabilmente non è questo il dialogo mentre stavano registrando, ma semplicemente erano sul set e parlavano, discutevano su come comportarsi nel corso delle riprese. In questa immagine vediamo Max, e quella davanti a lei non capisco bene chi sia. Ditemi voi, se la riconoscete, ha la statura di Max, quindi penso sia una bambina, ma non capisco in realtà chi essa sia. In alto a sinistra invece vediamo Natalia Dyer, ovvero Nancy, quindi sarà presente anche Nancy in questa scena. Questo invece è un fotografiano di Dustin col suo cappellino. Altra foto di Dustin, altra foto con solo Max, qui invece vediamo sempre Robin e Lucas, con il braccio di Dustin che si stava filmando, quindi chiaramente non fa parte questo del set, non fa parte di ciò che verrà poi messo negli episodi, erano semplicemente sul set e che si stavano posizionando. Ora passiamo invece a una novità ufficiale di Netflix, di Stranger Things, dalla pagina ufficiale, e quindi il collegamento ad un nuovo personaggio. Questa è l'immagine che la stessa Stranger Things, la pagina, ha pubblicato, e la seconda è questa, con quello che sarà il logo dell'Elfari Club, nulla di che è semplicemente, probabilmente, un richiamo agli X-Men, alla Marvel. Infatti Stranger Things è ambientato negli anni Ottanta, e quindi i bambini sono ragazzini di base, quelli che danno il nome al loro team, e sappiamo, come vediamo quindi dalla foto, che ci sarà Dustin, e un altro personaggio che troviamo nell'Elfari Club, che è praticamente ufficiale, è lei. Non si capisce bene chi essa sia, sembra una donna, ed è chiaramente, con la maglietta del Elfari Club, segno che sarà forse la fondatrice del Elfari Club, o forse è il genitore di qualcuno che non conosciamo, la madre di qualcuno che non conosciamo, di un nuovo personaggio. Non lo sappiamo. Ciò che è certo è che farà parte, visto che ha la maglietta del Elfari Club, con Dustin, e poi vedremo anche con chi. Abbiamo ipotizzato su cosa potrebbe essere Elfari Club in questo video, che vi lascio nelle schede, andatelo a vedere, per rimanere aggiornati. E in quest'altra foto vediamo che nel set, lei, questa signora, questa attrice, era anche con Robin, quindi probabilmente verranno girate le scene assieme, quindi non sappiamo, forse è il primo episodio, sappiamo che The Elfari Club, infatti, sarà il titolo del primo episodio. In quest'altro video vediamo Dustin che sventola la bandiera del Elfari Club, orgoglioso, quindi chiaramente si tratta di un gioco, di un nome che si sono dati loro, e vi faccio vedere il video, così per semplice intrattenimento. Passiamo ora a quest'altro video, sempre uno spoiler di Stranger Things 4, un trailer, dai, spoiler, penso che non ci sia niente, ed è questo qui. Come vediamo, il numero che rimane alla fine è undici, e molti dicono, possono pensare, novembre? Oppure primo gennaio, uno a uno? No, semplicemente undici è la protagonista, forse, di Stranger Things, si chiama proprio undici, quindi è giusto che ci sia dal dado il numero undici. Come ultima cosa vi faccio vedere questo video, dove c'è Gaten Materasso che sta giocando a Dead by Daylight, l'attore, come sappiamo, Gaten Materasso, l'attore di Dustin, che sta giocando a Dead by Daylight in un evento, perché come sappiamo in questo gioco Dead by Daylight, ci sono anche alcuni personaggi di Stranger Things, ed è un gioco che ho portato anche in live su Twitch, e continuerò a portarlo perché tra poco riprenderanno le live, finalmente, so che molti di voi stanno attendendo, arriveranno proprio tra pochissimi giorni, poi vi faccio sapere, e comunque, sentite cosa dice, ve lo dico già per chi magari non capisce bene l'inglese, dice che hanno già iniziato le riprese dell'ottavo episodio, ottavo episodio, chiaramente, di Stranger Things 4, quindi sicuramente non è che hanno registrato tutti gli altri sette, però sono già avanti, sono già avanti e sono già all'ottavo episodio, e quindi sappiamo che sicuramente almeno otto gli episodi sono, molto probabilmente comunque nove. Vi lascio il video. Davvero pazzesco, vuol dire che sono comunque ben strutturati con le riprese, e comunque per oggi è tutto, noi ci aggiorneremo di continuo su Stranger Things, sulle varie teorie, le ipotesi, gli approfondimenti e le novità. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate like al video, e seguitemi su Instagram, mandatemi le vostre novità, perché le accetterò, ogni tanto pubblico qualcosina, riprenderò anche a pubblicare su Instagram, come detto. E per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!